Promise me, you'll wait for me, cause I'll be saving all my love for you, and I will be home soon. Promise me, you'll wait for me. Magnesia San Pellegrino, la punta di un cucchiaio come antiacido per digerire, e come lassativo un po' di più per aiutare l'intestino. Magnesia San Pellegrino, è un medicinale usare con cautela.